ariete si apre una giornata positiva che vi orienta alle sensazioni frizzanti e piacevoli siete curiosi e interessati a conversare, frequentare persone e muovervi fisicamente tuttavia dovreste allentare quella pressione che ogni tanto fa capolino e vi dirige verso atteggiamenti aggressivi toro oggi la luna disarmonica può suscitare qualche malinconia comunque state attraversando una fase ricca di occasioni e possibilità di cambiamento avrete modo di scoprire qualità impensate in voi stessi e se vorrete potrete trasformare radicalmente un aspetto della vostra vita gemelli giornata di benessere e allegria è un momento nel quale intendete ravvivare qualche rapporto scaduto nella routine fare nuovi incontri e amicizie siete molto effervescenti dal punto di vista mentale e la vostra curiosità vi introduce in percorsi di lavoro da approfondire cancro è la sfera amorosa che adesso vi tiene in fibrillazione con un andamento alcalenante e pieno di sorprese che sono per lo più positive ed offrono spazio per ritrovare il gusto delle novità marte in transito nel segno vi regala una bella passionalità leone la luna oggi è disarmonica e può inclinarvi ad un tono dell'umore spento nervoso a sensazioni di disagio che investono prevalentemente il settore sentimentale il rapporto con i partner siete però anche beneficiati da una buona ripresa nel campo sociale e lavorativo vergine in un quadro astrale sostanzialmente positivo esiste anche qualche influenza meno favorevole che provoca alcuni disagi nelle relazioni nei rapporti di lavoro e nella capacità di ordinare con chiarezza i vostri programmi ma siete anche determinati a raggiungere un obiettivo bilancia tornano alla ribalta alcune preoccupazioni inerenti l'ambiente di lavoro oppure questioni di carattere burocratico legale cercate di allentare le tensioni avete dalla vostra parte un assetto astrale un po' faticoso ma che prospetta soluzioni vincenti scorpione la giornata vi vede sollecitati nella vostra natura ombrosa siete un po' giù di tono e irritabili permalosi più del solito l'amore risente di questo disagio infatti state attraversando una fase di discussione instabilità con chi amate cercate di guardare avanti sagittario oggi la luna vi sorride però non tutto fila via come vorreste in questo periodo emergono situazioni che riguardano contratti e accordi di lavoro questioni economiche che dovete assestare ma siete anche un po' demotivati e stanchi ritrovate il vostro ottimismo capricorno la pressione di matteo posto si fa sentire a volte e vi causa un periodo di nervosismo e malcontento cercate di non pretendere troppo da voi stessi e accettate con curiosità le varie novità che si presentano a partire dalla sfera sentimentale acquario la luna oggi transita nel vostro segno e vi inclina al sentimento agli affetti anche se ogni tanto non siete d'accordo con chi amate infatti possono emergere divergenti di fondo nel rapporto di coppia che dovrete affrontare chiedendo a voi stessi cosa davvero desiderate pesci cielo astrale positivo per quanto riguarda la vostra energia la voglia di intraprendere una strada diversa per trovare quegli spazi che da tempo desiderate che siano di lavoro o sentimentali tuttavia adesso i programmi possono subire degli stop dei ripensamenti buone stelle buone stelle buone stelle